Coach Serravalli ha annunciato che per motivi personali non potrà essere lui a guidare la squadra nel nuovo campionato di Serie C goal. Presidente, come ha preso questa decisione? Guarda, sinceramente non benissimo, nel senso che siamo tutti noi un attimo stati colpiti dalla serietà, dalla saggezza, umiltà e onestà di Omar Serravalli. Perché veramente con questo gesto, nonostante possa sembrare brutto, ha dimostrato che è veramente un grande uomo, un grandissimo uomo, perché in sostanza non c'è niente da nascondere. Tanto siamo in contatto sempre con Omar, lui ha praticamente dei problemi personali che non riesce a essere certo di poter mantenere quella serietà e quella attitudine che per quest'anno ha mantenuto. In C goal, lo sappiamo, è un pochino più impegnativo e lui onestamente ha detto io non me la sento di prendere un impegno così importante e di far magari delle figuracce a metà. Quindi io quando di fronte a me trovo delle persone così oneste, così umili, così veramente bravissime, io ho risposto con quello che mi veniva dal cuore. Cioè voglio che tu rimanga alla SBA, io ti lascio il posto da presidente se vuoi fino al custode, scegli te quello che vuoi fare. Queste sono state le parole che ci siamo scambiati in quella stanza. Omar comunque spero che mi dia una risposta per fare qualcosa da lui, perché è veramente una persona che non vorrei perdere, un ragazzo fantastico. Che tipo di allenatore, con quali caratteristiche sarebbe quello giusto per guidare la Main SBA in un campionato molto difficile, dove pur magari non con l'ambizione di vincerlo, però c'è l'ambizione sicuramente di fare una bella figura e di mantenere la categoria. Sì, noi siamo saliti, non certo per stare poi a provare com'è e poi riscendere. E' chiaro, nello sport può succedere tutto, però l'idea nostra è quella di provare la Cigold e di rimanerci, anche perché la città, secondo me, è una città come Arezzo, si merita almeno questa posizione nazionale. L'allenatore, non credo che esista un allenatore esatto, preciso per la SBA, quello che noi stiamo cercando è un allenatore sicuramente motivato, cioè come lo era Omar, un allenatore che voglia crescere insieme a noi, che però nello stesso tempo sia una persona con molta esperienza, con un curriculum di tutto rispetto, perché come siamo seri noi nell'affrontare questa cosa, lo deve essere anche l'allenatore che verrà. Un allenatore che comunque, umanamente, sia una persona con il quale possiamo parlare, ridere e scherzare, perché troppo spesso siamo molto seri e ci vuole anche un po' di questa cosa. Qualche, come dire, un allenatore che gli piace anche lavorare nel settore giovanile, da dove pescare dei ragazzi da poter lanciare. La filosofia della squadra sarà sempre la stessa, c'è maggioranza di Aretini, poi con qualche giocatore, insomma, di Ghilievo, cioè manterrete questo profilo? Credo di sì, perché l'ossatura c'era già e rimane, almeno mi auguro che non ci siano novità, almeno in questo. Ho parlato con i ragazzi, i ragazzi sono d'accordo, ovviamente lo erano anche prima, a fare un sacrificio per questa categoria. Non so quanti potranno essere di tutta la squadra, perché poi alla fine erano cinque d'Arezzo, proprio Aretini e Aretini. Quindi, vediamo quello che ovviamente dobbiamo guardare nel mercato, aspettiamo l'allenatore e il giorno dopo partiamo subito con i giocatori. Dobbiamo prendere dei giocatori importanti, come è stato l'Avlinas.